valbontino è trovato senza vite il giovane disperso dalla giornata di ieri il corpo dell'escursionista 24 anni è recuperato nel pomeriggio scuola di montagna il consiglio provinciale di bergamo al lavoro per cercare di far ottenere anche al territorio aerobico deroghe così come accade in provincia di sondrio clusone sabato 5 ottobre l'appuntamento con la decima edizione della sciasse 13 la divertente corsa con gli sci di legno buonasera ben ritrovati con il telegiornale di antena 2 è stato purtroppo trovato senza vita emanuele ossoli il giovane di 24 anni di brusaporto disperso da ieri il corpo è stato individuato e recuperato nel pomeriggio di oggi in una zona impervia sopra valbondione il giovane era uscito per un allenamento ma senza lasciare indicazioni precise su dove aveva intenzione di andare la famiglia allarmata per il mancato rientro ha chiesto aiuto le ricerche sono partite da valbondione dove è stata ritrovata la sua automobile la zona da vagliare era molto ampia e quindi oltre al soccorso alpino e speleologico carabinieri vigi del fuoco protezione civile sono stati impegnati cani molecolari e anche gli elicotteri della regione lombardia e dei vigi del fuoco grazie alla segnalazione di un ragazzo che lo aveva incontrato nei pressi del rifugio curò l'area di ricerca è stata circoscritta nel pomeriggio lo hanno individuato poi sono cominciate le operazioni di recupero infine la constatazione della morte e più volte in passato ci siamo occupati della riduzione del numero delle scuole in montagna nel rispetto delle soglie degli iscritti diminuiti negli ultimi anni per via anche della decrescita demografica distanza partita dalla nostra valle volta a ottenere deroghe ha trovato sponda presso l'amministrazione della provincia di bergamo sentiamo vladmi lazzarini il consiglio provinciale di bergamo ieri sera all'unanimità ha detto sia la richiesta indirizzata alla regione di un'attenzione particolare per le scuole di montagna che si trovano in effettive aree di disagio l'obiettivo è di ottenere delle deroghe anche rispetto agli organici delle scuole come già accaduto per la provincia di sondrio nel 2015 la provincia di bergamo chiede che vengano trattati in modo omogeneo tutti i territori montani lombardi il consigliere delegato alla programmazione scolastica claudio cancelli ha spiegato che l'obiettivo non è tenere aperte le scuole sempre e ovunque ma andare a vedere anche sulla base della qualità del servizio scolastico quali situazioni meritino questa attenzione va ricordato che negli ultimi dieci anni in provincia di bergamo per rispettare il numero minimo di alunni per classe le scuole primarie sono scese da 113 a 97 la sindaca di gandellino flora fiorina era stata la prima nella primavera del 2018 a sollevare la questione c'erano stati incontri con la provincia e con l'assessore regionale massimo settori ma poi le cose si sono un po incagliate ora si stanno muovendo anche le altre comunità montane bergamasche e da ieri c'è il pieno appoggio e sostegno da parte della provincia ora andiamo in città alta a bergamo per il secondo anno consecutivo domenica 6 ottobre alle ore 11 piazza vecchia sarà animata da centinaia di giovani in festa per uno dei traguardi più entusiasmanti nella vita la laurea l'università degli studi di bergamo infatti vuole omaggiare i suoi laureati con un grande evento che prende spunto dalla tradizione anglosassone il graduation day circa 500 tocchi accademici il caratteristico copricapo dei neolaureati lanciati da altrettanto neodottori coloreranno il cielo di bergamo alta in segno di gioia per il risultato raggiunto di buon auspicio per le sfide future oltre 1200 gli invitati docenti familiari amici ospiti d'eccezione come letizia moratti presidente di ubibanca già ministro dell'istruzione e sindaco di milano prima donna a ricoprire incarichi di grandissimo rilievo come la presidenza della rai e il canto autore venice caposera che animerà la manifestazione con la sua musica riflessiva colta e raffinata ora cambiamo argomento ieri sera in consiglio comunale a gazzaniga tra i punti trattati l'assemblea si è occupata anche dell'ascito del signor mauro ghilardini mario scusate ghilardini vediamo il servizio di nicola androletti tra i temi affrontati ieri sera dal consiglio comunale di gazzaniga anche quello relativo a una donazione al comune di un cittadino che è venuto a mancare ecco spieghiamo un po che cosa è successo un paio d'anni fa è morto questo nostro concittadino mario ghilardini non essendo sposato non avendo figli ha destinato le sue tutti i suoi beni ai nipoti e a diversi e a diversi enti del nostro territorio della provincia in realtà fra gli eredi è figurato anche il comune di gazzaniga con due tranche una tranche del 5 per cento dei suoi dei suoi beni da destinare all'istituzione di borse di studio per persone in stato di bisogno e un altro 5 per cento dei dei suoi beni da destinare a famiglie a famiglie bisognose in stato anche anche queste in stato di stato di bisogno di che cifre stiamo parlando allora il complessivo attualmente l'operazione non è ancora conclusa ma stiamo parlando di circa 60 mila euro potrebbe arrivare a 70 ci sono tutti i calcoli fatti dal notaio da scorporare le tasse quindi ad oggi la la cifra precisa non c'è ancora nel senso che era suddiviso su su due conti correnti per dirle in modo semplice uno è stato liquidato che la parte grossa manca un manca una frazione del della donazione ma è una quota una quota piccola insomma irrisoria ecco il benefattore ha dato indicazioni precise su come utilizzare questa donazione due binari da seguire ma naturalmente bisogna anche stabilire delle delle regole ve ne siete occupati anche in consiglio comunale quindi come utilizzerete in concreto questi soldi allora una parte la metà di questi soldi verrà verrà utilizzata per restituire numero cinque borse di studio come si diceva prima le cinque borse di studio saranno saranno fruibili per i prossimi ipoteticamente 12 anni quindi per un periodo per un periodo importante la cifra destinata di 2500 euro annui che verranno modulate appunto sulle cinque borse di studio l'altra l'altra fetta viene trasferita tutta sul bilancio del del comune e messa a disposizione del dei servizi dei servizi sociali che al bisogno utilizzeranno parte di questa cifra secondo le finalità del del donatore voltiamo pagina ora ci occupiamo di un museo particolare non di una struttura fisica almeno per ora ma di un museo online consultabile l'indirizzo museodellaresilienza.org ecco ma innanzitutto cosa intendiamo con il termine resilienza? per resilienza intendiamo quella capacità di alcune persone di alcune comunità o di alcune aziende di fronteggiare dei momenti di difficoltà talvolta addirittura drammatici e riuscire a mantenere la propria identità superare questi momenti di difficoltà e costruire un futuro positivo dove non viene rinnegato ovviamente il momento difficile o drammatico ma diventa parte integrante della propria identità quindi resilienza la possiamo intendere come la capacità di vivere nonostante un fatto traumatico e di vivere positivamente lavorando su questo tema raccolto materiale a sufficienza per poter allestire un museo che per ora è soltanto online sì la scelta del museo in versione online è determinata dal fatto che l'esigenza principale fosse quella di diffondere il più possibile le storie raccontate da questi oggetti quindi i moderni sistemi di comunicazione mi consentono di arrivare in ogni in ogni angolo del mondo e proprio perché si tratta di testi digitali possono essere facilmente letti da persone con problemi di vista o tradotti in tutte le lingue c'è qualche esempio di caso su cui ha lavorato che è contemplato dal museo online sì ovviamente mi piacerebbe parlare di tutti di tutte le storie di tutti gli oggetti che sono che sono esposti da Elvis Presley Nelson Mandela Iacuzzi Swatch se devo raccontare una storia particolare ecco io parlerei di Hiroko una bambina nata a Hiroshima pochi minuti prima dell'esplosione della bomba atomica fortunatamente sopravvissuta sono sopravvissuti anche i suoi genitori e le due sorelle e lei rappresenta proprio il Giappone che risorge dopo il giorno più nero forse il giorno più nero per l'umanità e nella sua vita normale perché poi è riuscita a sposarsi avere dei figli a condurre una vita normalissima ecco questa normalità raccontata attraverso una fotografia di lei sorridente con la mamma al suo decimo compleanno ecco secondo me quella è l'immagine più bella e che che porto come esempio del mio museo ed è il museo della resilienza consultabile online come abbiamo appena detto ci occuperemo anche domani sera all'interno di decoder trasmissione in onda a partire dalle ore 20 e 30 sul canale 88 delle digitali terrestre ora ci fermiamo per una breve interruzione a tra poco rieccoci in onda con il telegiornale di antena 2 giovedì sera a Gandino si è tenuto un incontro promosso dal gruppo culturale Lumen con il giornalista e scrittore Danilo Taino autore del libro scacco all'Europa si è parlato di superpotenze e del ruolo che potrebbe assumere l'unione europea sentiamo il quadro mondiale il quadro internazionale sta cambiando a una velocità assolutamente straordinaria l'emergere della Cina sta cambiando tutti gli equilibri del mondo quelli che abbiamo conosciuto l'equilibrio atlantico nel quale le nostre generazioni sono nate sono cresciute e che ha garantito anni di pace sostanzialmente e di crescita economica e di benessere è messo in discussione è messo in discussione dall'emergere della Cina non perché necessariamente la Cina sia cattiva ma perché la Cina ha obiettivi diversi ha obiettivi è un modello di sviluppo diverso che è diverso da quello europeo è diverso da quello americano io credo che questo sia il grande cambiamento in corso con quale dovremo fare i conti nei prossimi decenni e da questo punto di vista credo che noi europei dobbiamo toglierci alcune illusioni che gli scorsi 70 anni di pace e di tranquillità siano facilmente replicabili è un passaggio difficile per l'Europa secondo me questo è molto importante e speriamo che la nuova Commissione europea quella guidata da Ursula von der Leyen riesca davvero a diventare quella Commissione geopolitica che la Presidente ha promesso sarà sulla questione militare, sulla questione della difesa l'Europa deve fare molto di più questa è un'occasione credo io straordinaria se l'Europa avesse davvero il coraggio di prendere in mano questa questione per riequilibrare i rapporti con gli Stati Uniti io credo che il rapporto con gli Stati Uniti sia un bene per l'Europa un bene, l'alleanza atlantica è fondamentale per difendere i valori occidentali i valori democratici e i valori della libertà di mercato dobbiamo riequilibrare credo il rapporto con gli Stati Uniti se investiremo di più in difesa noi europei se saremo più uniti nel fare discorsi sulla politica estera e sulla difesa e sulla sicurezza credo che avremo anche la possibilità, la legittimità di chiedere agli Stati Uniti a Washington di pesare di più anche nelle decisioni che vengono prese all'interno della Nato ma secondo me la difesa europea dovrà essere assolutamente all'interno del quadro della Nato all'interno del quadro dell'alleanza atlantica e dovrà avere anche una forte relazione con l'altro grande paese che ha una forza militare e una forza nucleare che è la Gran Bretagna anche se la Gran Bretagna, il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea certo che la forza nucleare e la forza militare francese sarà estremamente importante non dovrà essere l'unica e non lo so, anche la questione del nucleare militare in Europa credo che prima o poi dovrà essere discussa non credo che i francesi in questo momento siano disposti a dare all'Europa il controllo delle loro atomiche ma credo che comunque la questione debba cominciare a essere discussa il grande problema è che l'Europa non è abituata a discutere di queste cose e i cittadini europei quando si parla di difesa credono che la difesa non sia necessaria in questo momento perché la pace viene stata data per scontata in realtà la pace è una cosa che andrà conquistata e se minacciata andrà difesa senza dubbio l'economia è una delle chiavi oggi quando si parla di rischi di guerra non si parla solamente di guerra guerreggiata come la si intendeva anche solamente 30 anni fa oggi i conflitti internazionali e i conflitti internazionali ci sono e il rischio che siano sempre più forti è serio questo rischio i conflitti vengono giocati dal punto di vista delle guerre economiche dal punto di vista delle guerre tecnologiche dal punto di vista delle guerre digitali con una serie di strumenti viene chiamata guerra ibrida guerra ibrida perché comunque ci sono in campo tutta una serie di strumenti che non necessariamente sono carri armati che non necessariamente sono bombe e aerei ora ci occupiamo di architettura giovedì ad Albino in programma una conversazione tra Enrico Valeri e Laura Maria Milanese nell'ambito delle giornate della storia e dell'arte 2019 ad Albino giovedì 3 ottobre alle 20.30 nella chiesa di San Bartolomeo ci sarà un incontro che avrà per protagonista Enrico Valeri una conversazione con Laura Maria Milanese iniziamo a dire chi è Enrico Valeri Enrico Valeri innanzitutto è un albinese come me e come me è un architetto Enrico Valeri nasce ad Albino ma muove poi emigra velocemente lui ama definirsi architetto senza laurea e prende velocemente la strada 23 anni del imprenditore piuttosto che del design perché subito inizia questo connubio con i progettisti diventa un tale scout porta in Italia personaggi quali Philip Stark e subito questo doppio lavoro sul progetto e sul mondo poi della produzione e della vendita caratterizzano la sua personalità abile poi nel diventare comunicativo diventare un maestro quindi nel riuscire a comunicare e trasmettere i suoi valori proprio dai valori lui parte diventano poi parte essenziale del suo modo di concepire l'architettura ma anche il mondo del disegno industriale che ci tiene a chiarire non è design ma è disegno industriale qualcosa che riguarda l'utile come dire aiutami la tecnologia è fondamentale perché non è l'estetica si non è l'estetica l'estetica viene dopo cioè come dire un punto d'arrivo se le funzioni di un oggetto sono rispettate se l'autenticità di un oggetto quindi tutto ciò che fa le componenti anche anche tecnologi di un oggetto allora l'oggetto diventa bello ma chi insegue un effetto estetico a priori sbaglia rischia di cadere nel luogo comune nella scenografia in oggetti che hanno il tempo contato che hanno un'obsolescenza immediata diretta che è quello che io cerco di evitare Di cosa parlerete in particolare giovedì? Beh io spero di divertire raccontando aneddoti curiosi di vita è un grande affabulatore che magari riguardano la mia vita ad albino comincerò con una storiella inedita che riguarda gli albinesi e che tra l'altro mi segna molto quindi segna il mio percorso e curiosamente mi è venuta in questi giorni questa storiella che ho in testa da sempre ma che non ho mai scritto quindi questa sarà un po' la prima sorpresa poi avremo modo di spero di divertire non di annoiare raccontando cose curiose della mia vita io ho sempre indagato ho sempre cercato ho sempre cercato di scoprire ho portato molte persone in giro per il mondo a conoscere la grande architettura Hai in mano due volumi che ha scritto lei penso parlerete anche di questi giovedì ad albino tra l'altro sono nati in un modo un po' particolare Sì sono nati come dire guardando nel mio in quello che ho dentro nelle esperienze più curiose anche quelle più come dire più conclamabili più come dire più di effetto l'incontro con Ross Kennedy l'incontro con Dalì l'incontro con con Philip Star con non so Andy Warhol Woody Allen Ben Gazzara non lo so io sono protagonista di incontri incredibili perché li ho voluti non li ho inseguiti non sono andato a cercare queste persone me ne sono trovate per strada ma perché forse ho inseguito delle persone che avevano questi contatti che mi interessavano perché mi davano delle emozioni quindi carosellari registi personaggi un po' della storia della cultura o comunque del mercato a cui ho fatto sempre riferimento e quindi questo mi ha dato modo di conoscere il mondo l'incontro di giovedì è accreditato dall'ordine degli architetti di Bergamo per il rilascio di due crediti formativi uno degli eventi più divertenti dell'altopiano di Clusone spegne dieci candeline nel centro storico della cittadina Baradella sabato 5 ottobre andrà in scena la decima edizione della SCIAS 13 la simpatica gara non competitiva con gli sci di legno la SCIAS scompie dieci anni ebbene sì siamo arrivati alla decima edizione siamo felici di questo non pensevamo neanche perché era nata per scherzo e invece la proseguiamo come tutti gli anni divisa in due categorie bambini piccoli a due persone sugli sci e quella dai 13 anni 14 anni in su con gli sci a 4 che parte dalla piazza Uccelli invece quella dai piccoli parte dal Mantegazza e si arriva sempre in piazza dell'orologio a concludere questa bellissima garettina gogliardica diciamo non è competitiva per niente vi aspettiamo con i soliti costumi più c'è un abbinamento di costume e tempo per la classifica viene premiato di sicuro il miglior costume anche dal gruppo che viene ognuno mette il suo nome e la sua dedica in base al loro tema l'obiettivo è divertirsi e far divertire sì questo è far divertire la gente il pubblico di Clusone e anche noi dallo Sci Club ci facciamo vedere in paese perché effettivamente abbiamo solo ci facciamo vedere nella spessa o se no come l'alpinismo e la discesa che siamo sui campi da sci lontani da Clusone dunque delle volte è giusto anche che lo Sci Club partecipi e faccia qualcosa in questa bellissima cittadina e chi si volesse iscrivere? si deve solo che telefonare lo 0346 al 21 580 e entro venerdì sera le iscrizioni sono come dicevo gratuite per i bambini piccoli e dai 14 anni in su e 20 euro a squadra colgo l'occasione scusa se ti rumo un secondo colgo l'occasione da ringraziare tutti gli sponsor che ci lasciano fare questa manifestazione ce lo permettono e idem l'amministrazione comunale che ci appoggia tanto in questo evento ricordiamo comunque di nuovo gli orari ci ritroviamo in piazza Uccelli alle 14 alle 15 la partenza dei primi concorrenti e anche un'altra cosa grazie a Antena 2 che ci supporta con Tony e Elena con un collegamento in piazza in diretta di tutta la manifestazione si sentono i tempi si sente è bellissimo venite e vi aspettiamo numerosi a questa bellissima competizione gogliardica sempre gogliardica divertimento assicurato ora continuiamo con la rubrica qua la zampa cura del veterinario Stefano Gusmini ben ritrovati a qua la zampa parliamo in questa puntata dell'apparato respiratorio degli uccelli in questo periodo di cambio stagione i primi freddi e via dicendo è più facile che pappagallini uccellini vari da gabbia possano incorrere a patologie respiratorie e perché questa cosa? bisogna capire un po' che l'apparato respiratorio i polmoni quindi degli uccelli sono diversi da quelli dei mammiferi non hanno gli alveoli come i mammiferi ma si chiamano capillari e questo è un sistema molto più efficiente di scambio dell'ossigeno ma cosa vuol dire il volo sicuramente è alla base della vita di un uccellino e quindi tutto il suo metabolismo è dedicato a fare in modo che possa muoversi e spostarsi volando richiede molto ossigeno e quindi è un apparato molto più efficiente scambia molto più ossigeno con il sangue rispetto a un apparato respiratorio dei mammiferi hanno dei polmoni fatti in modo particolare hanno soprattutto dei sacchi aerei sono proprio dei sacchi distribuiti all'interno del corpo dell'uccellino che permette di avere delle scorte di aria e permette anche di pompare velocemente l'aria all'interno dei polmoni ma questo apparato molto efficiente è anche più delicato proprio perché è più facile che batteri o agenti inquinanti o altre cose possono arrivare all'interno dei polmoni dell'uccellino e causare patologie questo è il motivo per cui magari gli sbalzi di stagioni gli sbalzi termici le correnti d'aria sono più nocive agli uccellini rispetto che agli animali ai mammiferi l'altra cosa che potete ricordare è magari nelle vecchie immagini dei minatori vi ricordate c'erano i minatori con dei canarini all'interno di piccole gabbie ed era un segnale che quando i gas tossici che si potevano sviluppare all'interno delle miniere raggiungevano un livello pericoloso perché gli uccellini soffrivano e morivano e prima che soffocasse anche il minatore si usciva si scappava dalla miniera perché avevano trovato uno gas tossico che si sta sviluppando proprio perché gli uccelli sono più sensibili alle tossine gas tossici e alle problemi respiratori rispetto a noi mammiferi bene per questa puntata è tutto ci vediamo settimana prossima arrivederci una breve pausa tra poco eccoci in onda con il telegiornale di Antena 2 ora proseguiamo con la programmazione televisiva questa sera sul canale 88 alle 20.40 trasmetteremo il sasso nello stagno Tone Tranquillo questa settimana è stato all'overe e si è occupato della proposta di fare votare già i cittadini all'età di 16 anni alle 21.30 trasmetteremo Antena 2 Sport alle 22.30 trasmetteremo la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23.10 tempi supplementari alla mezzanotte e mezza della terza ed ultima edizione del nostro telegiornale il notiziario di Antena 2 andrà in onda anche alle ore 21.30 ma sul canale al numero 218 del Digitale Terrestre sul canale sportivo al numero 628 alle 20.30 trasmetteremo la partita di calcio Prada Lunghese Azzano Grassobbio mentre alle 22.30 la partita di calcio Vertovese Lemine Almenno Eccola al Manacco per domani mercoledì 2 ottobre il sole sorge alle 7.15 e tramonta alle 19.05 il culmine è alle ore 13.10 la durata del giorno è di 11.50 la luna sorge alle 11.37 tramonta alle 21.30 la fase lunare la luna è crescente ed è visibile al 28% la chiesa ricorda gli angeli custodi per quanto riguarda le previsioni del tempo mercoledì il cielo sarà coperto con precipitazioni da moderate a localmente forti in graduale esaurimento da ovest dalle ore centrali della giornata le temperature saranno in sensibile abbassamento e con questo è tutto noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento per la vostra attenzione a presto